Buongiorno a tutti. Oggi è martedì 8 settembre e parliamo di analisi ciclica voluta su DAX e Fuzzimib. Siamo all'apertura, sono 9.08 e vediamo che la prima candela sta provando a sfondare la media mobile a 200 periodi. A che punto siamo arrivati di terzo T-3? Siamo arrivati qua, ovvero a 26 barre. Oltre il minimo risicato a 22 e però ancora lontani dalle 44, per cui dobbiamo capire che cosa hanno voglia di fare a livello di volumi. Perché ieri mi aspettavo certamente un rimbalzo, ma non di questa identità, devo essere sincero. E quindi la cosa ha dato da pensare quando abbiamo superato già qua le 32 barre e siamo arrivati poi oltre le 44, 45 e non siamo scesi. Per cui ho visto da dove potrebbe partire appunto un nuovo T-3 inverso ed eccoci qua. Vediamo se però appunto da questo massimo, dato che abbiamo messo già un chip short in violazione di questo piccolo swing inverso a 13.087, avranno voglia di ritornare sotto la media mobile a 50 periodi e far partire eventualmente non soltanto il quarto T-3 inverso, che richiederebbe poco di discesa, ma anche un secondo T-1 inverso che richiederebbe perlomeno una 5,5 di discesa al minimo, da sempre massimo a massimo perché parliamo di inverso, e quindi discesa di indice, salita per l'inverso e discesa di indice. A questo punto il minimo che fa da swing inverso per la partenza di nuovo effettiva del quarto T-3 inverso è proprio questo, quello a 13.083. Sembra piccolo, strano, tutto quello che volete, ma è quello che ci permetterà di capire se è superato appunto il ribasso, se sta partendo effettivamente il quarto T-3 insieme alla parte relativa al tempo, alla richiesta relativa al tempo. Per cui seguiamo, come sapete, come al solito ci sono sempre finte all'inizio della giornata, quindi non vi preoccupate, rilassatevi almeno fino alle 10 e 0.1 e poi ragionate, a meno che non si sia già dentro, come siamo noi appunto short, oppure che non si voglia provare la sorte ma bisogna essere effettivamente estremamente in gamba per fare determinate cose. Non conosco tanti trader che riescono a fare questo genere di operazioni, ma va bene. Allora, altra cosa interessante, torniamo al Fuzimib. Guardate già che candela dopo lo sconto con la media mobile a 200 periodi. Qui abbiamo, non abbiamo ancora effettivamente la certezza della partenza, perché non abbiamo una violazione di swing, però direi che già con la violazione precedente che è da valutare e questa candelina che si sta allungando, un target, questa media mobile a 19.606 e prima il livello inferiore dell'accumo, ecco, da qui è molto probabile che stia appartenendo a qualche cosa, anche se qui ho voluto eventualmente fare un movimento che ancora va interpretato, perché questo, se fosse il terzo timore tra l'inverso, richiederebbe una risalita sopra di questo massimo a 19.816 per chiudere. Per cui questo è un raccordo, oppure che cos'è? Su Fuzimib la situazione è un pochino differente. Vi faccio però notare che le medie mobili sono praticamente da un pochino di tempo, non dico parallele, ma quasi. Finché non avremo un'uncinata qui, le cose rimarranno come per ora detto. La centratura corretta, 1, 2, 3, da qui partenza di secondo timeno 1, oltre al quarto timeno 3, da qui ok, secondo timeno 1, tolgo anche il punto di domanda perché è serenamente la partenza dello stesso, insieme al quarto timeno 3. Per quanto riguarda l'inverso, anche in questo caso, dato che c'è una candela molto lunga, molto grossa, è molto probabile che si stia andando a chiudere qualcosa, eventualmente anche soltanto il secondo timeno 3 inverso, e un timeno 2 inverso, e quindi abbiamo anche in questo caso il tempo ciclico per sapere quanta possibilità di discesa abbiamo dopo, diciamo, un buon recupero dai minimi fatti registrare appunto venerdì scorso. Ah, ricordatevi una cosa, l'ho ricordata ieri di nuovo al gruppo, quando state guadagnando molto bene, mettete eventualmente anche soltanto un take profit, sempre a difesa del vostro profitto, altrimenti rischiate di ritornare sotto zero, cosa che non ha alcun senso, proteggete o semplicemente il capitale investito mettendo sotto un prezzo a difesa del vostro short, oppure fate una cosa ancora più semplice, seguite l'operazione, ieri come sapete, o almeno come alcuni sanno, non potevo seguire l'operazione, per cui mi sono messo il mio take profit, e finito il discorso. Altra cosa, qui, questo è il punto a cui eravamo appunto arrivati ieri, ve lo faccio vedere un secondo, mentre invece questa è la situazione più dinamica, già a partire dal mattino, per quanto riguarda il nostro Fuzzimib, c'era una piccolissima divergenza ribassista ieri, la cancello perché è già stata annullata, e in questo caso non abbiamo divergenze ribassiste di sorta, abbiamo massimi crescenti e massimi crescenti a partire da qua, decrescenti e decrescenti, quindi cose particolari non ce ne sono. Per la giornata insomma che cosa fare? Aspettate di vedere che cosa hanno voglia di fare dopo questi movimenti appunto delle 10, e dopo la partenza eventuale appunto di un movimento, in questo caso su DAX un T-3, un T-1 inverso, e poi fate molta attenzione perché alle 11 sono dei dati che possono essere appunto fastidiosi per chi si occupa di trading. Già il dato della Germania questa mattina è stato estremamente valido, e diciamo che ha prodotto soltanto questo genere di reazione per adesso, e tra poco vedremo la prossima candela, vediamo che cosa hanno voglia di combinare a breve. Mi aspetterei sostanzialmente discesa ovviamente per la chiusura del 4 T-3, cosa che potrebbero teoricamente aver fatto qua, anche perché siamo arrivati a 37 barre qui, e poi dovremo monitorare magari appunto questo minimo per capire se hanno voglia di andare short, e se questa rimane appunto una barriera difficilmente valutabile anche se abbiamo già avuto una chiusura sopra. Gli Stati Uniti sono verdi, è come il future, attenzione, attenzione, ultra app, trappola per tori, vedremo. Buona giornata a tutti.